La famiglia, la nonna, la madre, lo zio, il nipote dello zio, il nipote del nonno sono rappresentati nelle dita della mano in modo che il Wayu non dimentichi le sue origini. Sai perché sono rispettata, Rapayet? Perché sono capace di tutto per la mia famiglia e per il mio clan. È lei che devi persuadere. Devi convincerla che metterai la tua famiglia prima di tutto. Dove hai preso tutto questo? Ho fatto un affare. Ho venduto marijuana a dei gringos. Devi chiederti a chi sei leale, Rapayet. Non siamo fratelli, Rafa. Rafa! Non finirà qui. Gli spiriti sono offesi. Non ci protegge più nulla. Non voglio sognare più, madre.